Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, oggi ho bisogno di sfogarmi un po'. Premesso che io allo scudetto ci credo ancora, tutti noi dobbiamo crederci ancora perché dicendo che è finita facciamo soltanto il male del nostro Napoli. Certo sono un po' demoralizzato perché la situazione non è per niente facile e il desiderio da parte di tutti noi tifosi napoletani di festeggiare questo tricolore il prossimo 20 maggio è davvero fortissimo, però per il bene della nostra squadra non dobbiamo fare altro che sostenere e crederci fino alla fine. E come ha detto anche Sarri, in queste dieci partite che mancano alla fine del campionato il Napoli dovrà dare il suo 101%. La Juve ieri vincendo il recupero per 2-0 contro l'Atalanta o per meglio dire contro la scansa Atalanta si è portata a più 4 e quindi ora non bisognerebbe fare altro che vincerle tutte fino alla fine del campionato compreso lo scontro diretto con la Juve e poi inoltre la Juve dovrebbe perdere punti in un'altra partita c'è da sperare soprattutto nelle partite col Milan e poi la Juve nelle ultime 4 giornate dovrà andare a San Siro contro l'Inter e all'Olimpico contro la Roma speriamo che la Roma abbia ancora interessi alla penultima giornata di campionato perché se no la Roma la partita alla Juve gliela regala e fanno lo stesso biscotto della scorsa stagione al contrario vabbè comunque ragazzi è davvero assurdo che questi sono 4 punti avanti ragazzi 4 punti avanti ma davvero una cosa assurda perché loro dovrebbero avere almeno 7-8 punti in meno visti tutti i regalini che gli sono stati fatti dagli arbitri il Napoli ragazzi sta facendo un campionato fantastico con una media punti stratosferica spaventosa abbiamo perso questo primato perché prima o poi può capitare che un paio di partite non le vinci perché in un arco di una stagione le partite non si possono vincere tutte e loro le stanno vincendo tutte proprio perché quando non le riescono a vincere ci sono pronti i top player arbitri a regalargliele e quante ce ne sono state in questo girone di ritorno ricordiamo che il gol della Juve era da annullare perché c'era stata una spallata di Benazia a Pavoletti e poi dopo non è stato concesso il calcio di rigore al Cagliari per un fallo di mano clamoroso di Bernardeschi poi Fiorentina-Juve viene concesso il calcio di rigore alla Fiorentina poi dopo tre minuti viene annullato il calcio di rigore alla Fiorentina per un presunto fuorigioco e poi vedendosi è visto che quel fuorigioco non c'era perché era stato passaggio all'indietro di Alexandro e se la Fiorentina in quella partita fosse andata in vantaggio andava in modo completamente diverso e senza dimenticarci Juve-Roma dell'ultima giornata del girone d'andata dove il gol dell'1-0 della Juve è nato da un calcio d'angolo che non c'era perché Higuain si è stoppato il pallone con il braccio e poi il calcio d'angolo è stato causato da una deviazione non mi ricordo se del portiere o di un difensore della Roma poi Lazio-Juve Lazio-Juve Lucas Leiva mi sembra viene atterrato da Benasia in area di rigore rigore netto non concesso e poi in tutte queste occasioni non è stato visto il VAR ragazzi non è stato visto il VAR e giustamente quando hanno visto che la situazione cominciava a diventare complicata per la Juve che passavano le giornate ed era sempre seconda hanno deciso di abolire il VAR ma ora no detto il fatto dei favori arbitrali c'è anche un altro aspetto sotto il quale noi meritiamo centomila volte di più rispetto a loro la vittoria di questo scudetto noi in questo campionato siamo stati in grado di battere avversari che contro di noi sputano sangue in campo fino al novantesimo minuto mentre contro di loro giocano tutti con atteggiamento arrendevole l'Atalanta per esempio ieri che già era stato assurdo il fatto che Gasperini tre settimane fa quando diciamo la data nella quale si doveva giocare inizialmente la partita aveva schierato una formazione con tre primavera in campo e poi tutte riserve e dico io come si fa come si fa come si fa una partita di campionato a schierare tre primavera in campo e inoltre aveva messo anche il portiere di riserva poi tu ieri caro Gasperini si gioca il recupero di quella stessa partita e tu mi vai a fare nuovamente turnover ma come è possibile gli unici tre titolari erano Cristante Ilicic e Gomez Gomez che poi era mezzo rotto e perciò l'ha messo secondo me ma poi no stamattina si sono viste delle cose assurde tipo il titolo della gazzetta ciao Napoli la Juve vince contro l'Atalanta va più 4 ciao Napoli questo ragazzi è stato il titolo di questa mattina della gazzetta dello sport ditemi voi se è normale che un quotidiano il quotidiano sportivo più importante d'Italia non solo sportivo ma la gazzetta dello sport è considerata tra i quotidiani nazionali maggiori tu mi vai a dare un titolo del genere perciò in Italia ragazzi il calcio italiano sta diventando davvero una barzelletta una vera e propria barzelletta e poi vogliamo parlare del like che Papo Gomez ha lasciato sotto al post di Dybala un post che rappresentava i giocatori della Juve che esultavano dopo il gol nella partita di ieri contro l'Atalanta e vi sembra normale che un calciatore che è stato sconfitto va a mettere il like ad una foto degli avversari che esultavano per un gol contro la sua squadra ma vi sembra una cosa normale cioè perciò ragazzi a queste cose davvero viene viene il volta stomaco a sentire certe cose sinceramente quindi ragazzi ci dobbiamo credere fino alla fine anche se purtroppo questo campionato italiano ragazzi ormai è una vera e propria barzelletta il campionato italiano è rimasto l'unico che ormai c'è il potere scusate c'è il potere di questa Juve che in un modo o nell'altro la devono sempre far vincere facciamo un esempio no? il campionato inglese una volta lo vince lo United una volta lo vince il City una volta lo vince il Chelsea il campionato spagnolo c'è una continua alternanza tra Real e Barcellona e poi qualche volta si inserisce l'Atletico per quanto riguarda la lotta per lo scudetto solo in Italia solo in Italia devono per forza far vincere sempre alla Juve questi questi scudetti di cartone e secondo me il campionato italiano a me dispiace che l'Italia non va ai mondiali però secondo me il campionato italiano merita merita di non andare al mondiale ragazzi questo scudetto ce lo meritiamo davvero tutto e sarebbe davvero un peccato però io dico che in qualsiasi modo vada a finire questo campionato noi ci dobbiamo ritenere campioni noi ci dobbiamo ritenere campioni perché lo saremo a prescindere e poi noi i giuventini che dicono sempre che noi siamo piagnoni e ignoranti a lamentarci degli episodi arbitrali e delle altre squadre che si scansano contro la Juve allora noi non siamo né piagnoni né ignoranti ma non sim fess come si dice a Napoli che ha nessuna fess perché se noi non diciamo niente su queste cose vuol dire che sim fess e noi fessi non lo siamo e quindi e quindi parliamo e io come tanti altri tifosi napoletani nel nostro piccolo dobbiamo combattere queste ingiustizie che ci sono nel campionato italiano ma che poi voi dite i napoletani ma voi ovunque andate in Italia vi odiano proprio per questo fatto ovunque in Italia dicono che che voi rubate anche se andate in realtà più piccole tipo Bologna Firenze ragazzi io non voglio dire che la Juve non è forte perché questo non si può dire è innegabile che la Juve sia forte però è straiutata molto aiutata e certo il fatto che sia forte non vuol dire che debba vincere per forza lo scudetto perché forti lo siamo anche noi e come gioco non c'è per niente paragone siamo nettamente superiori come gioco e quindi vabbè ragazzi detto questo io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre forza Napoli sempre forza Napoli contro tutto e tutti